Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Faccio questo video e faccio vedere anche la mia faccia Perché volevo dirvi che entro il 2019 Scusate ma sono le 6 e un quarto di mattina per dirvi Entro il 2019 Volevo fare una cosa Che se entro il 2019 Arriveremo a 100 In che 100 sono pochi? Vabbè 100 A 100 iscritti e regalerò una gift card da 10 euro E niente, poco più volevo dire che Più tardi Verso le No, più tardi Questi fra due ore dovrebbero uscire Farò caricare il video Il video dell'Ama dove ho trovato le cose E poi E poi pomeriggio saranno i live Quindi tutti pomeriggio Spero di vedervi E niente Quindi Penso di Vediamo se facciamo La live di ieri è stata Cioè L'ho fatto Tipo all'incirca Sui 10 iscritti E 12 mi piace E 82 visualizzazioni Grande Andiamo così Quindi io vi ricordo che Pomeriggio sono i live E Sono i live Buongiorno Buongiorno